L'occasione che si presenta anche grazie alla possibilità di usufruire dei fondi del PNRR non può essere sprecata, perché difficilmente ve ne saranno altre. E di questo avviso il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, Antonio Lessiani, merito ai lavori che porteranno alla tanto attesa ristrutturazione del Tribunale di Teramo. La cosa ora che preoccupa e non piace a tutti è il fatto che sembrerebbe che per avviare gli interventi bisognerà traslocare gli uffici in un'altra struttura. Questo per rendere più veloci gli interventi che riguarderanno anche il rifacimento di tutti i servizi igienici, l'installazione del servizio di climatizzazione in tutto l'edificio, la messa a norma delle balaustre, delle scale e degli atri. Qualche settimana fa c'era stato detto che l'esecuzione di questi lavori era compatibile con la prosecuzione dell'attività. Adesso, forse anche grazie al fatto che l'avvio dei lavori ha subito un'accelerazione perché sono stati agganciati a quelli del PNRR e quindi dovrebbero essere consegnati entro fine dicembre di quest'anno, pare che c'è la possibilità che non si possa rimanere all'interno del Tribunale durante l'esecuzione di questi lavori per ragioni di sicurezza e di incolumità delle persone. Abbiamo avuto un incontro, l'amministrazione comunale alla quale noi ci siamo rivolti perché per noi l'obiettivo è di rimanere in questa zona, di non andare al di là, oltre i confini della città di Teramo, ha assicurato la propria collaborazione e sta valutando la messa a disposizione dei capannoni adiacenti alla zona nella quale adesso insistono i capannoni, dietro alla chiesa della Madonna delle Grazie. Possiamo dire che ok ai disagi ma bisogna correre con i lavori perché l'obiettivo è quello di avere un nuovo Tribunale? Ah beh certo i lavori vanno fatti, altrimenti il Tribunale di Teramo di qui a qualche anno chiuderà, chiuderà, verrà soppresso, avremo uno spezzatino come ce l'abbiamo avuto per il collegio elettorale, Chieti ha da qualche mese fa annunciato la costruzione di una nuova cittadella giudiziaria, l'Aquila ha un Tribunale nuovo ricostruito dopo il sisma, Pescara ha un Tribunale moderno e nuovo e amplissimo, Teramo rimarrebbe la Cenerentola e quindi credo che questa sia una battaglia che stiamo facendo, una battaglia a difesa del nostro territorio, non possiamo perdere questa occasione e credo che nessuno possa dire che è contrario all'esecuzione di questi lavori. Ma per avere un quadro più dettagliato bisognerà attendere la conferenza dei servizi in programma il prossimo 6 giugno.